Samuel Stern Extra 2022 Epiloghi Wabalabadabadabe bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Bugs Comics Samuel Stern principalmente Ho iniziato a parlare anche di Callia come avete visto dal mio ultimo o penultimo video che dir si voglia E come ho già detto nei video precedenti, anche nel video precedente su Samuel Stern Ho faticato stavolta davvero tanto a trovare l'Extra Ed è per questo che arriva in ritardo nonostante avessi fatto voto di parlare subito di Samuel Stern e di Dylan Dog Non appena uscivano i fumetti, però a volte il destino beffardo mi è contrario In questo numero, in questo Extra 2022, ci sono come l'altra volta quattro storie inedite Ecco, su questo inedite avrei qualcosa da ridire Eh sì, perché di queste quattro storie una storia in realtà è già stata pubblicata Anche se non è stata pubblicata per il circuito da edicola È stata pubblicata per il circuito da libreria, sul sito Bugs Comics e nelle fumetterie Sto parlando dell'epilogo di Valery Altro fumetto che ho faticato un po' a trovare Ma semplicemente perché appunto non è da libreria avrei dovuto chiederlo alle fumetterie Pensavo di trovarlo sul sito Bugs Comics quando ho comprato il numero 0 di Calia Quando ho comprato le copertine dell'incubo E invece ho visto che non c'era e poi vabbè non sono più andato a cercarlo in libreria L'ho preso direttamente a Lucca Eccolo qui Valery a colori con un epilogo Ecco, quindi ho avuto un po' di disappunto, eh, sono sincero Nel constatare che di queste tre storie, di queste quattro storie Una era l'epilogo di Valery Perché se lo avessi saputo, onestamente, o non avrei preso questa O non avrei preso... No, questo l'avrei preso perché ci sono altre tre storie molto interessanti Però ecco, mi ha un po', diciamo, infastidito questa cosa Spezzo comunque una lancia a favore della Bugs Comics Perché chiaramente il tempo di uscita tra questo e questo è stato parecchio Sono stato io che le ho presi a una distanza ravvicinatissima E quindi forse questo mio, non lo so, questo mio disappunto è dovuto da questo Però se avessi preso Valery quando è uscito Probabilmente, semplicemente, mi sarei trovato una versione in bianco e nero Di un epilogo che avevo già visto mesi prima L'avrei magari riletto, magari no Però ecco, non lo so, sono un po' titubante Sta di fatto che a questo giro di queste quattro storie Io non parlerò dell'epilogo di Valery perché non l'ho volutamente letto Perché vorrò fare una lettura a parte della versione a colori Con l'epilogo a colori di Valery e eventualmente fare un video a parte Su quella epilogo e su quel numero a colori Quindi se siete qui per l'epilogo di Valery non lo troverete Vi ricordo se ancora non lo avete fatto di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video Anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone Che amano gli epiloghi e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso Di questo numero, di queste quattro storie Qual è la vostra storia preferita, qual è quella che vi è piaciuta meno E se vi è piaciuta anche la spiegazione di Andrea Guglielmino Riguarda appunto il termine epilogo Che trovate come inserto all'interno, diciamo, delle quattro storie All'interno, a metà delle quattro storie Sono stato molto felice di leggere quello che in un certo senso è l'epilogo dell'arco narrativo di Isabel Per quanto riguarda il secondo anno di vita della testata Samuel Stern Non l'epilogo di Isabel in generale perché la voglio rivedere ancora Ma che quantomeno ha dato una spiegazione molto più interessante Molto più credibile per il mio gusto personale Al ruolo di Isabel nella battaglia di Avisco Ecco, forse se ci fosse stato Poi io so che le pagine, come ha detto stesso Lo stesso Fumasoli, lo stesso Guglielmino Le pagine sono quelle che sono Sono 96, non puoi buttare dentro tutto Qualcosa devi tagliare Ma se ci fosse stata Anche la storia di Isabel Non dico l'incontro con sua madre Che fa da cornice a questo racconto Ma diciamo la parte interna in cui ci mostrano Isabel Che fondamentalmente si ribella agli altri angeli Agli altri posseduti Alle altre possessioni angeliche Per aiutare comunque nella battaglia di Avisco Aiutare Gillian quando Samuel è svenuto E questo spiega anche il motivo per cui noi non sapevamo Il ruolo di Isabel Perché in un certo senso noi abbiamo vissuto la storia Dal punto di vista di Samuel di conseguenza non abbiamo visto Isabel in azione Ma qua finalmente viene spiegato Che ha avuto un ruolo Che Isabel ci è stata mostrata nei numeri precedenti ad Avisco Perché qui ha avuto un ruolo Peccato non averla vista proprio nella saga di Avisco medesima Però ecco questo epilogo è molto interessante Anzi se per caso alla Bugs Comics venisse in mente di ristampare La saga di Avisco il numero 23 e 24 Io ci aggiungerei anche questo epilogo francamente Passando invece appunto per la terza storia Perché la seconda come ho detto è quella di Valerie E non la voglio leggere per non autospoilerarmi Voglio leggerla direttamente a colori È quella di Disco Rotto Uno degli amabili vecchietti della Casa dei Sospiri Numero che è abbastanza recente Uno dei numeri che ha fatto più discutere Me e gli altri miei stimati colleghi youtuber Che parlano della Bugs Comics Di Samuel Sterna Sul fatto che comunque gli anziani Avendo passato una lunga lunghissima vita Fatta anche purtroppo di solitudine E di rimpianti come lo stesso Disco Rotto Scrive, dice in questo epilogo Quasi tutti gli anziani della Casa dei Sospiri E per estensione quasi tutti gli anziani Soli che ci sono Non tutti gli anziani Ma tutti gli anziani soli E ce ne sono tantissimi Sviluppano un'ombra Non per forza un demone Ma un'ombra Ed è per questo che Samuel Sterna Si sente davvero disturbato Come se fosse una radio Piena di disturbi Quando si trova all'interno della Casa dei Sospiri Perché è piena appunto di frequenze maligne Che sono tutti gli ospiti Della Casa dei Sospiri Vediamo anche proprio un momento In cui Samuel incontra anche gli altri vecchietti E parla proprio bellamente Ai demoni Alle ombre di questi vecchietti Dicendo state tranquilli Non sono qui per voi Rilassatevi Levatevi dalle palle E va a trovare Disco Rotto Che ha sempre Ha sempre questo sguardo Candido Questo sguardo Che sembra proprio Un personaggio Ecco di quell'autore spagnolo Di cui adesso mi sfugge il nome Ma che io apprezzo Questi occhi Senza Senza sclera Puntati nel vuoto Solo in quella scena In altre è un po' più dettagliato Ma che proprio fanno vedere Quanto sia il classico vecchietto Che fondamentalmente Ci crede Alle barzellette che racconta Ci crede che tutti lo ascoltino Sotto sotto Sa che nessuno lo ascolta Però Ha questa convinzione Nello sguardo Che mi fa Morire da ridere E mi è piaciuto molto Questo approfondimento Anche abbastanza Titro Di questa Di questo comic relief Che è appunto Disco Rotto Qua vediamo appunto Una piccola alleanza Tra un demone E Samuel Stern Per aiutare Un amico comune Le regole Sterniane Della possessione demoniaca Sono ben chiare Un demone Non può sopravvivere All'esterno Del proprio ospite Quindi O va in legione O muore Con l'ospite medesimo Non ci sono alternative Però questo Disco Rotto Non lo sa E quindi In onore Della 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 amicizia Per appunto Per il proprio ospite Il demone Fa un patto Diciamo Con Samuel E mente A Disco Rotto Dicendo che Andrà libero Per il mondo Anche se sappiamo Che non sarà così Devo dire una roba Molto interessante Perché appunto Ci mostra Quanto Samuel Stern Può scendere a patti Anche con un demone Per davvero aiutare Una persona Quindi non è così Bianco o nero Come è Duncan Proprio per la professione Per la missione Che Duncan stesso Ha con il suo collarino Ma è più umano Di Duncan stesso E questa cosa Mi è piaciuta molto Infine L'ultima storia Devo dire Quella che mi è piaciuta meno Ma non perché sia scritta male Ma perché mi è parso Che abbiano voluto Tagliare Una trama Che invece Io avrei voluto Riprendessero in futuro E invece Pare che qui Venga troncata Mi riferisco Alla trama Dell'incarnato Qui c'è Appunto La moglie Di Greg Dunbar Che Questa È una storia Molto Passatemi il termine Molto alla Dylan Dog Dove non si capisce bene Cosa è incubo Cosa è reale Cosa è ipnosi In questo caso Vediamo La moglie Stavo per dire La vedova La moglie L'ex moglie Di Greg Dunbar Che passa Da delle sedute Di psicoterapia Da una psicoterapeuta Qualunque Ha delle sedute Di ipnosi Dal vecchio psichiatra Di Greg Che cerca Di indurgli Fondamentalmente Una gravidanza Isterica Una gravidanza Isterica Dal quale però Nascerà davvero Un demone Forse una nuova Versione Una nuova Come si dice Un nuovo stadio Dei demoni Incarnati Degli incarnati Che questo psicologo Sta cercando Di generare Però con poco successo Noi comunque Vediamo Nelle versioni Nelle sedute Di ipnosi Cosa sarebbe Nato Cosa sarebbe Venuto fuori E vediamo Di come Questi siano Solo dei tentativi Dello psicologo Di Di far nascere Di far nascere Questo demone Purtroppo Come ha detto Non ricordo Se Guglielmino O Fumasoli Gli epiloghi Servono anche A raccontare Una storia Quando non c'è Stato il tempo Necessario Per raccontarla Tutta Eppure pare Che anche In questo epilogo Non ci sia Stato il tempo Necessario Per esplorare Questa Sottotrama Al punto Che a un certo Punto La moglie Per sbaglio Ammazza Greg E così Ponendo fine Al primo incarnato Che noi abbiamo Visto Il primo incarnato Che era stato Introdotto Con un cliffhanger In uno dei numeri Scorsi di Samuel Stern Che io avrei Voluto vedere Sviluppato In una trama E che qua Appare Che però Essendo stato ucciso Non verrà più sviluppato La cosa assurda È che se una persona Non legge l'extra Non ha preso l'extra Questa cosa Non la sa E magari continuerà Ad aspettarsi Il ritorno Di Greg Dunbar E dello psichiatra Senza successo Magari lo psichiatra Tornerà Ma con un altro incarnato Questa cosa È molto È molto strana Non amo molto Questa storia Perché Devia O devia Parecchio Da quella Che potrebbe essere Stata la trama Di Greg Si vede appunto Questo strano finale Francamente Che non ho capito Dove Vediamo Greg E la moglie Che con questo figlio Demoniaco Non è ancora nato Stanno passeggiando Per quella che Sembra essere Legione Nonostante la moglie Però sia viva Quindi è molto Molto confusa L'ultima storia Non l'ho apprezzata Non tanto per questo Perché ci stanno Delle storie Un po' Che ti confondono Ma Mi è dispiaciuto Che abbiano Tolto di mezzo Comunque Una delle tante Forze in gioco In Samuel Stern E lo abbiano fatto Tra l'altro Non in una storia Della testata regolare Ma di un extra Quindi questa cosa Mi ha un po' Destabilizzato Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di queste tre storie Della storia di Valery Scrivetelo qua sotto Se c'è dello spoiler Scrivetemi spoiler Io comunque adesso Appena edito Questo video Mi metterò a leggere Valery In modo da evitare I vostri spoiler E noi ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Vi ringrazio Ancora per essere Stati Fino alla fine Di questo video Grazie ancora Arrivederci